Forza, determinazione, comando. Sono Fabio Cannavaro, benvenuti su NikeFootball.com Le mie caratteristiche principali su un campo da calcio sicuramente sono l'attenzione, la posizione, ma soprattutto il fatto di voler sempre rubare il pallone agli avversari, sempre cercare di saltare più in alto dell'avversario, fondamentalmente comunque di prevalere sull'avversario perché le partite si vincono dagli scontri, dagli uno contro uno, se uno prevale sull'altro alla fine la partita si vince. Per me la cosa più importante in me è sicuramente incrementare la forza fisica, incrementare tante volte anche la corsa, ma soprattutto negli anni ho visto che la cosa più importante è incrementare l'aspetto tattico perché ci sono tanti giocatori che sono forti fisicamente, tecnicamente, ma la differenza la fa il particolare quindi se sei preparato anche a livello tattico fai meno fatica. La precisione del mio nome di giocare è fondamentale perché essendo un difensore, essendo l'ultimo uomo, tante volte devi fare degli interventi al limite e se non sei preparato sotto questo punto di vista rischi di fare delle brutte figure. La prima volta che vedi questa scarpa pensai uno che mi piaceva molto il colore perché a parte questa qui bianca la vedi anche il colore giallo e secondo il design, per me ormai non è più una scarpa ma è proprio una cosa che fa parte di me perché veramente tante volte non le sento e sono una comodità unica. Nel calciare la palla ho avuto sempre la parte di avanti e del collo a piede e neanche a fare apposta la nuova Total 90 a questa gomma sopra che è molto importante per la precisione, molto importante per calciare un porta nel miglior modo possibile e questo è un vantaggio che sicuramente noi attrati Nike avremo quindi se mi può dare una mano, ben venga!